La rivelazione inaspettata di un'ex corteggiatrice su Francesco Monte. Angela Chiglia rivelato di aver ricevuto delle avance dal modello pugliese Francesco Monte. Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, stiamo parlando del modello pugliese Francesco Monte. Per chi non lo sapesse quest'ultimo due mesi fa è stato lasciato in diretta tv dalla sorella della famosa showgirl Argentina Belen, ovviamente l'ex tronista di Uomini e Donne ha sofferto molto per questa separazione, ma fortunatamente si è ripreso, vi anticipiamo che nelle ultime ore sul web è circolata un'indiscrezione inaspettata sul Tarantino. Angela Achilli, Francesco Monte non è un santo per chi non lo sapesse Francesco Monte in questi mesi ha rivelato di non aver mai tradito la sua ex fidanzata, a tal proposito vi svegliamo che a distanza di settimane dalla rottura con Cecilia Rodriguez, sul web continuano a circolare indiscrezioni sulla presunta infedeltà del modello pugliese. A rivelare questo scopo è stata un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiamata Angela Achilli, perché nelle ultime ore ha fatto delle confessioni scotanti su Francesco Monte. In particolare questa ragazza sulla pagina Facebook dell'opinionista turchese Barakhi, ha rivelato che il Tarantino non è un santo, perché ha avuto una relazione amorosa con lei nel 2013, precisamente quando era ancora fidanzato con Teresa Anna Pugliese, e soprattutto ha detto che Francesco ci ha provato con lei anche quando stava con Cecilia Rodriguez. Inoltre Angela ha precisato di aver mantenuto le distanze dall'ex tronista, perché è disposto a tutto per arrivare al successo. Per finire l'ex corteggiatrice ha detto che secondo lei il modello pugliese è stato fidanzato con Cecilia soltanto perché è la sorella di Dele Rodriguez. Francesco Monte ha superato la fine della relazione con Cecilia riguardo a C, che vi abbiamo appena detto, Francesco Monte non ha ancora proferito parola, molto probabilmente perché è occupato nei preparativi per la partenza in Honduras, dato che farà parte del cast della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Inoltre vi riveliamo che di recente l'ex tronista nel corso di un'intervista ha confessato di aver superato brillantemente la fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez, in particolare Francesco alla rivista Diva e Donna in Edicola questa settimana, ha detto queste seguenti parole mi sembra di essere rimato. Mi sento meglio, perché ho iniziato a prendermi cura di me stesso, per ricevere altre curiosità su Francesco Monte, vi basterà cliccare sul tasto segui, posto nella parte alta di questo articolo, Uomini e Donne News. Grazie a tutti.